Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per incidente in direzione Firenze 7 km di coda tra Prato Ovest e il video per la 1. Sulla A1 in direzione Bologna vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. In direzione Roma coda in uscita a Firenze Sud per lavori. Sulla FIPILI per lavori due chilometri di coda in direzione mare tra Ginestra e Montelupo. Un chilometro di coda in direzione Firenze tra Empoli Est e Montelupo. È chiuso lo svincolo di Montelupo-Fiorentino in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione mare. Chiusa per lavori anche l'uscita di Micarello in direzione Firenze. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!